What's going on guys? Welcome to the video. Mi chiamo James White e vi presento la differenza fra must e have to in inglese. Shall we go? Let's do this. In inglese il verbo dovere al tempo presenta due traduzioni, must oppure have to. Vedremo tutte le differenze, in particolar modo in frasi affermative e frasi negative. Partiamo. Le differenze in frasi affermative. Quando parliamo di must, parliamo di un obbligo imposto dal soggetto stesso. Che vuol dire? Non è tanto l'esterno che decide per il soggetto, è il soggetto stesso in base alle proprie ambizioni, idee, ecc. Quindi se lui vuol fare un qualcosa, deve. Quindi I must. Invece have to oppure has to in terza persona è un obbligo non imposto dal soggetto, quindi un obbligo normale. Quindi ci tocca fare certe azioni come pagare le volete, fare il nostro dovere, ecc. Quindi se mi tocca allora devo. Quindi I have to. Adesso vediamo le frasi negative, ma prima di fare ciò ricordiamoci le forme negative. Di must è must not oppure mustn't. Have e has to saranno don't e doesn't have to oppure le altre forme che vedete. Quando parliamo di must not parliamo di divieti, quindi non bisogna fare certe azioni. Quello che noi vedremo di solito sui cartelli scritti di non compiere una certa azione, perché noi non lo dobbiamo fare altrimenti sono caz*****a. Quindi I must not. Invece quando parliamo di don't o doesn't have to parliamo di obblighi inesistenti. Che vuol dire? Noi non siamo costretti di dover fare un'azione. Magari non c'è un'imposizione. Meno male non la devo fare. Quindi I don't have to. Se volete tutte le forme affermative, negative, esempi eccetera, vi consiglio di guardare questi due video. I link sono nella descrizione. Mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere il prossimo video su Shell. Ciao ciao!